Ci sono sempre mille motivi per andare a Roma e per parlare di Roma. Noi siamo profondamente uniti anche perché abbiamo tanti devoti di Padre Pio che fanno capo al San Salvatore in Lauro, ma oggi vogliamo parlare proprio di uno di quei luoghi celeberrimi che faceva parte del cosiddetto Giro delle Sette Chiese. Magari qualcuno questa espressione non la conosce, anche se per esempio io ho dei nonni che per la prima volta sono usciti dal loro paese in Molise proprio in viaggio di nozze per andare a Roma e per andare a Roma a visitare appunto almeno le quattro basiliche. L'anniversario è di quelli importanti, sono 1700 gli anni dalla fondazione della Basilica di San Giovanni in Laterano. E noi perché vogliamo in particolare oggi concentrarci su questo? Perché già le celebrazioni sono iniziate il 9, come vi accennavo, e soprattutto oggi abbiamo a disposizione, lo salutiamo e lo ringraziamo, colui che da domani comincia a tenere un ciclo di incontri sui primi mille anni, pensate, di questa basilica meravigliosa inizialmente intitolata Santissimo Salvatore. è Don Andrea, Monsignor Andrea Lonardo che è collegato, lo ringraziamo anche per il suo sorriso oltre che per la sua disponibilità. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori di Telepadre Pio. Quindi da domani che cosa farete intanto? Ci sarà questo corso ma l'anniversario è cominciato il 9 di novembre perché è l'anno di dedicazione. Pensate non solo alla valenza storica, cioè qualsiasi chiesa ripete quel modello, cioè se c'è una chiesa in Puglia, in Molise, se c'è a New York, se c'è in Africa, la basilica di San Giovanni Laterano è quella che funge da modello, cioè è la basilica antica pagana, è fatta da architetti pagani agli stessi volumi delle basiliche in cui trovano gli imperatori, ma è girata per lungo in maniera da essere orientata, c'è un abside, cioè le persone camminano sapendo che la storia ha un oriente, ha una luce, ha Cristo che illumina, che viene verso di noi. Ma non solo è il primo luogo, quindi qualsiasi chiesa che c'è nel mondo è legata proprio storicamente, architettonicamente a quel primo grande modello che poi ha illuminato, ha dato la quadra, come si dice a Roma, a tutti quanti gli altri, ma è la cattedra del Papa, la cattedrale appunto, dove il successore di Pietro, la cosa più grande che c'è stata a Roma è stata, è una tragedia, ma è una benedizione, perché Dio cambia la storia, si vendica in maniera sua, noi i romani hanno ucciso Pietro e lui ha detto al posto di uccidere i romani io faccio sì che Roma diventi il luogo dove ci sarà con lui che insegna Gesù, cioè insegnerà a tutti, in qualsiasi chiesa del mondo, anche a San Giovanni Rotondo, se si celebra una messa bisogna dire in comunione con il Papa che ha la cattedra San Giovanni Laterano e ognuno di noi quando va in un'altra città deve dire in comunione con il Vescovo di quella chiesa, cioè questa chiesa rappresenta la comunione di tutte quante le chiese, poi dopo Avignone il Papa è andato ad abitare a San Pietro perché lì è il luogo della sua sepoltura, quindi appunto ricordiamolo, mille anni dopo quel 324 all'incirca ci fu appunto l'esilio avignonese, e perché, spieghiamo anche bene, perché abbiamo cominciato tra virgolette ad avere una chiesa, una basilica, non in senso pagano ma cristiano soltanto dopo tre secoli, perché naturalmente il paganesimo era repressore, martirizzava la fede cristiana e poi c'è stato Costantino, Costantino che se non erro è anche rimasto come protagonista nella basilica. Sì esatto, la storia di Costantino è molto peculiare, la vulgata lo tollera male, cioè nelle nostre cuole è presentato come un grande nemico, un grande uomo che ha rovinato tutto, in realtà Costantino è forse il più grande imperatore romano, forse più grande di Augusto stesso, di Cesare Ottaviano Augusto, certo come tutti gli imperatori è stato estremamente violento, ha ucciso una moglie, ha ucciso un figlio, perché temeva che gli cospirassero contro, ha combattuto guerre, ogni persona che guida l'impero ha avuto queste durezze, anche i più famosi, i più filosofi eccetera, e non si è battezzato come dice la leggenda in San Giovanni Laterano, ma solo in punto di morte, ha vissuto come catecumeno, cioè poteva entrare, poteva convocare il concilio di Nicea perché era ritenuto cristiano in quanto aveva chiesto di battezzarsi, ma non si era battezzato per essere esonerato dal vivere la fede in pienezza, eppure è stato lui a capire che il paganesimo stava morendo nei cuori, che non riscaldava più i cuori dei cittadini dell'impero, che serviva un collante, serviva un humus, un animus, e a Roma ha costruito ben dieci basiliche, la prima San Giovanni, poi San Pietro, San Pietro è costruita da Costantino, così la prima cappella di San Paolo, ha costruito il santo sepolcro, cioè Elena è la prima archeologa, siccome il cristianesimo non è un mito ma è una realtà storica, lei è andata a scavare dove c'era il tempio di Venere, fatto da Diano. La mamma di Costantino, ricordiamolo, che è santa sia per noi che per tutti i cristiani d'Oriente, mentre Costantino addirittura comunque è santo ma non per la nostra tradizione, giusto? Sì, solo per l'Oriente, Elena è la madre, diceva molto bene, ha fatto bene a precisarlo, e viveva a Santa Croce in Gerusalemme, anche Santa Croce è una basilica costantiniana, però in realtà è bello dire che le chiese e i battisteri esistevano già prima, perché voi sapete che i primi cristiani hanno battezzato, non avendo luoghi, nei fiumi, anche in Puglia, dove c'era un ruscello, dove c'era uno sbocco d'acqua, si andava al mare a Roma nel Tevere, Pietro, Paolo, Aquila, Priscila scendevano nel Tevere, chiedevano rinuncio a Satana, rinuncio, credi in Dio Padre, credo, credi nel figlio, credo, credo nel figlio, credo, e io ti battezzo, prendendo l'acqua, a quei tempi era pulitissimo il Tevere, come tutti i fiumi, e io ti battezzo, quando pian piano i cristiani hanno capito che c'era la pioggia, Pasqua si battezzava, poteva esserci un temporale, eccetera, hanno cominciato a costruire le chiese, si sa che prima di Costantino c'erano già 40 a Roma, ma San Giovanni Laterano è la prima chiesa dove si possono radunare tutti i cristiani per le grandi feste, cioè quelle precedenti erano sicuramente più piccole, e il cristianesimo era perseguitato e insieme, atteggiamento teovamente romano, ti dico che si fa una cosa, però poi dopo non è esattamente che si fa come dice la legge, questo è un problema da sempre del rapporto fra politica e cittadini. Molto bello questo tuffo nella storia, Don Andrea, come è percepita invece oggi la Basilica Lateranense dal popolo di Dio? Guardi, possiamo partire da quello che dissero Giovanni XXIII e Paolo VI, voi sapete che la Basilica Lateranense è stata in qualche modo dopo il 1300 abbandonata a se stessa, cioè ci sono delle frasi bellissime di Giovanni XXIII che per primo sognò di portare lì il vicariato, cioè di renderla, il Papa oggi ha due curie, la curia di San Pietro e la curia dove il Papa aiuta la chiesa del mondo intero, se c'è un problema in Amazzonia se ne parla a San Pietro. Roma, il vicariato è oggi il luogo dove si aiutano, si aiuta la chiesa di Roma, si decidono i parroci, si formano i giovani che diventeranno vice parroci, c'è la carita, c'è l'ufficio dell'università di cui mi occupo io, l'ufficio scuola e così via. Allora i papi Giovanni XXIII e Paolo VI cominciarono a dire se fosse quello il luogo adatto, dato che oramai la curia per il mondo intero si è trasferito a dove è oggi la Santa Sede, nella città del Vaticano e Paolo VI ricorda che da bambino a otto anni veniva lì, le finestre erano chiuse, la basilica era tutta nell'ombra, sembrava di entrare in un posto abbandonato e dice i ragazzi sognano, io sognai che questo posto sarebbe diventato il luogo della vita ed ecco allora c'è questa curia del Papa, c'è il Papa Francesco che ci tiene tantissimo al titolo di Vescovo di Roma, più di qualsiasi altro compito in carico che ha anche la nuova Costituzione un modo per guidare Roma tramite il vicariato appunto dove c'è il suo vicario e dove c'è il Consiglio Episcopale diciamo tutte le realtà romane guardano lì, c'è un ragazzo che sa che il suo parroco si sta formando lì nel seminario, sarà nominato quando cambierà dal vicariato e i poveri della Caritas sanno che se ricevono del cibo, se vengono aiutati ad avere un documento passano per la Caritas che ha lì la sua sede, io mi occupo di università gli universitari sanno che è lì che noi cerchiamo di aiutarli, sostenerli, incoraggiarli poi i sede anche della Puglia sono come degli eroi, voi pensate ai ragazzi di 19 anni come gli antichi lavoratori che migravano lasciano mamma, papà, lasciano le focacce buone della Puglia lasciano le orecchiette, vengono a stare in un buco, in una stanza, devono cucinare loro, lavare loro correre per tutta Roma col traffico, ecco è un modo di stare, loro sanno che è lì che avviene tutto ciò che cerca da parte della Chiesa di aiutarli e sostenerli Ma la cattedra come mai non è stata mai spostata nonostante il Vescovo di Roma si sia spostato lo so che la domanda può sembrare bizzarra, però devo dire che è abbastanza invece sempre un punto poco comprensibile il fatto che il Vescovo di Roma non sia dov'è la cattedra appunto Ma guardi la risposta è semplice, non è una domanda bizzarra, è proprio perché il Papa è innanzitutto Vescovo di Roma E quindi quella cattedra, io c'ero negli ultimi papi, Papa Francesco, io ero presente tutto il clero romano si raduna, lui viene eletto in San Pietro ma viene a sedersi lì entra, c'è un silenzio, ci sono i canti di invocazione dello spirito lui si siede e c'è uno scoroscio di applausi, c'è una festa, c'è una gioia perché lui è Vescovo, cioè può aiutare per esempio la Puglia, i Francescani Capuccini eccetera proprio perché innanzitutto è colui che siede su quella cattedra quindi a cura delle sue parrocchie come ogni Vescovo, a cura dell'università della sua città come ogni Vescovo a cura dei poveri della sua città, a cura che tutto funzioni bene nel laicato che funzionino bene i consigli pastorali, che ci sia la sinodalità cioè è il segno che la sua prima cura è Roma e Papa Francesco già fin dall'elezione quando apparve alla finestra per dare la prima benedizione disse io sono il Vescovo di Roma ecco per questo la cattedra è lì forse a San Pietro è come dire io sono innanzitutto il Papa e poi solo secondariamente sono il Vescovo di Roma no, lui è entrambe le cose grazie chiarissimo Monsignor Andrea Lonardo e grazie mille per essere stato con noi stamattina e per averci accompagnato nei luoghi di questa basilica così importante per tutta la cristianità e sicuramente la prenotiamo per un'altra volta perché ci sono tante e tantissime cose da continuare a raccontare dell'oggi e della lunghissima storia di quei meravigliosi 1700 anni che compie appunto grazie davvero e buona mattinata a tutti Arci Basilica, grazie Buon proseguimento di giornata a lei e buon lavoro noi ci fermiamo per qualche istante e poi ritorniamo insieme Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti